Sì, sì, ma il segnale che ho detto dai miei ragazzi è questo, l'idea mia è questa, vorrei piano piano costruire un padro che vuol vincere, come lo posso dimostrare? Se posso fare tre attaccanti con equilibrio, perché non è che sempre lo puoi fare, lo devi percepire nei momenti che la squadra può reggere tre attaccanti, perché non è facile, poi contro una squadra importante, però era un segnale che volevo dare, non bisogna mai contentarsi, voglio creare questo spirito in tutti, perché è giusto che sia così, se crei una cosa devi portare avanti, non puoi avere dubbio, timore o paure, se hai paura sei già perso in partenza, io vorrei costruire una squadra che vuole fare qualcosa di straordinario, per farlo devi avere la mentalità, devi avere l'atteggiamento, devi avere la capacità, l'equilibrio, sono tante componenti che ti fanno diventare una squadra importante. E soprattutto...